Ciao a tutti, una Fujifilm non troppo complicata Un saluto a tutti, un buon lunedì da me, dal mio maglioncino bianchissimo, molto invernale che credo che sia anche un pugno in un occhio nel video mi vedo nello schermetto e devo dire che risalta abbastanza sono un po'... sembro angelico, sto scherzando naturalmente però il fatto che sia una macchia bianca mi fa molto piacere almeno non si vede che c'è una macchiolina qua sotto Allora, Lorenzo, lasciamo stare le ciance Lorenzo scrive Io vorrei entrare nel mondo della fotografia digitale con una Fuji Non ho un budget molto alto e sono abituato a scattare analogico con una Minolta XGM Vorrei qualcosa che assomigliasse, almeno per non sentirmi, troppo spaisato Cosa mi consigliereste? Allora, prima di cominciare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella Cose velocissime, attivare la campanella Mettermi un like al video Se dovete fare un acquisto su Amazon, vi invito a farlo tramite il link che trovate qua sotto Il primissimo, mi supportate col canale E date un occhio anche a tutti gli altri link che trovate sotto in descrizione Ce ne sono di interessanti Tornando a noi, allora, io ricordo, diversi anni fa, parecchi anni fa, a dire la verità Ero a cena a casa di un amico E questo amico, anche lui arrivava dall'analogico E aveva qualche anno in più di me Mi diceva, io ho sempre scattato con una Canon analogica E sto cercando, o almeno ci stavo cercando una fotocamera Che potesse in qualche modo lasciarmi comunque il sapore di fotografare Insomma, che si avvicinasse molto a quella analogica Sono andato in un centro commerciale Non facciamo i nomi E ho chiesto al commesso una fotocamera che somigliasse molto alla mia vecchia analogica Lui mi ha dato questa E mi ha fatto vedere una Canon, se non ricordo male, una 450D o una 500D Adesso non ricordo Io gli ho, come dire, spiegato un attimino la cosa Cioè, intanto se vai in un centro commerciale Non ti danno più di tanto retta Ma giustamente, cioè, il commesso non sta mezz'ora a spiegarti I pregi, i difetti di un elettrodomestico Piuttosto che di una fotocamera o di un computer Anche se comunque sono addetti specializzati Il loro obiettivo è ovviamente vendere E in questo caso è anche difficile spiegare come non esista Un corrispettivo digitale di un sistema analogico Sono due mondi incredibilmente diversi Incredibilmente uno ertaggio comunque di un gloriosissimo passato E l'altro strumento digitale che è più un computer forse che una fotocamera Quindi oggi chiedere di passare a un sistema Che in qualche modo possa, diciamo, non traumatizzare E quantomeno non ti faccio, almeno passare la voglia di fotografare Perché il problema è anche questo Quando una volta lavoravi con l'analogico C'era sicuramente tutta un'altra concentrazione C'era tutto un altro modo di fotografare Che oggi è cambiato E che è molto più legato alla tecnologia Che non magari al fare la fotografia con un certo criterio Cosa vuol dire? Una volta si trovano quei meme in giro Una volta scattavi 18 pose, 36 pose E ci mettevi una vita Oggi in un decimo del tempo scatti mille foto Onestamente io non la trovo assolutamente una cosa così scandalosa Tutt'altro, nel senso che oggi facciamo le cose in una maniera diversa Ma è chiaro che chi arriva dall'analogico È abituato in maniera completamente diversa Quindi approcciarsi al mondo digitale è sicuramente più difficoltoso E mi sorprende anche vedere come ci siano veramente tante persone Che arrivano ancora nel 2020 dall'analogico E vogliono passare al digitale Intanto Lorenzo ti posso dire che sicuramente il mondo digitale ti piacerà Questo è poco ma sicuro Ci vuole anche tanta tanta pazienza Immagino anche che l'approccio con Fuji sia molto Come dire, old style Cioè il fatto che comunque il fascino retro delle Fuji Abbia alimentato questo desiderio di passare a digitale E nello specifico a Fuji Però freniamo subito la cosa Cioè il fascino retro di Fujifilm È comunque limitato all'estetica e al controllo Sicuramente sulle ghiere Ma tutto il resto è completamente digitale Intendo dire che se vogliamo utilizzare il controllo dell'esposizione La compensazione dell'esposizione E la velocità di scatto Gli ISO E poche altre cose Tra cui anche il diaframma Ovviamente anche la messa a fuoco Questo è molto analogico Nel senso che comunque i controlli sono molto simili all'analogico Ma tutto il resto è assolutamente digitale Quindi tutto il resto delle impostazioni è assolutamente una digitalata Cioè comunque bisogna assolutamente imparare Allora la questione è legata molto anche al tipo di fotocamera che si vuole andare a comprare Si parla spesso di entry level, fascia media e fascia alta E qualcuno confonde questo tipo di collocazione anche con la semplicità d'uso La realtà è che la semplicità d'uso in base alle fasce di prezzo Poi anche delle singole fotocamere è molto limitata Cioè una entry level non sarà più semplice da utilizzare rispetto a una fascia alta Una XT100 per dire Sicuramente ha funzioni in meno Ha delle caratteristiche per cui te la rendono un po' più smart Un po' più veloce da utilizzare Ma ciò nonostante teniamo presente che un bel 60-70% di caratteristiche le condivide con una fascia alta Quindi con un XT3, con un XT4 Quelle caratteristiche Va da sé che ovviamente tante voci, tante cose all'interno della fotocamera Possono creare un pochino di confusione per chi si approccia al digitale Questo non deve assolutamente spaventare Perché comunque, io lo dico tranquillamente Moltissime funzioni delle MXT3 non le uso Semplicemente non ci sono Ma so che esistono Probabilmente non riuscirei nemmeno a utilizzarle Penso al focus bracketing Io so che c'è Probabilmente riuscirei forse a impostarlo Ma l'ho usato credo una volta Così anche come lo scatto a esposizione multipla Sì, quello l'ho usato forse un pochino di più Ma non sono quelle cose nelle mie corde Quindi non sono quelle cose che faccio così spesso Penso anche alla sezione video Che ha una voce intera di impostazioni, di menu Che sono anche abbastanza complicati Per chi magari non conosce certe terminologie E certe caratteristiche Semplicemente si saltano a pie pari Quindi l'idea di acquistare una fotocamera E poi aver paura Problema anche magari di non poterla usare immediatamente No, tranquillamente si può tranquillamente utilizzare fin da subito Il consiglio è sempre Consultare il manuale Dare un'occhiata anche ai video Che ci sono, i tutorial, gli articoli I vari blog che spiegano anche le varie funzioni Di Fujifilm si trova veramente l'impossibile Ma passiamo alle fotocamere Quali consigli? Allora, nel momento in cui passi dall'analogico a digitale Non si sa dove stai andando a parare Quindi è inutile andare a consigliare Al di là del fatto che è stato specificato un budget basso È inutile andare a parare su una fascia alta Una X-T4 Una X-Pro3 È inutile Ho capito, è un investimento Ci mancherebbe Sicuramente è tutto a disposizione Ma non si sa quali saranno le caratteristiche Che si andranno a ricercare all'interno di una fotocamera Vale anche per gli obiettivi Quindi è inutile andare a spendere una cifra elevata Quindi il mio consiglio sicuramente è Col nuovo ti consiglierei Visto che comunque arrivi da una mia volta Che quel modello è una reflex Quindi non ha l'ottica gallileiana Escluderei la serie X-Pro Ti consiglierei decisamente un X-T200 O a questo punto una X-S1 Che è uscita da poco Che costa un pochino di più Parlando di nuovo Parlando di usato Probabilmente ti consiglierei Per rimanere comunque ancora più nel budget E approcciarti effettivamente col mondo Fujifilm Se trovi una buona occasione Se trovi qualcosa di tenuto bene Diciamocelo Una bella X-T2 Secondo me una X-T2 O anche un X-H1 Tutto sommato non è male È un buon modo per iniziare A vedere come funziona La fotografia digitale Poi da qui a un anno Da qui a due anni Magari si scopre che il mondo digitale Non è così difficoltoso Non è così magari Differente dal mondo analogico Per cui la scelta potrà passare A fotocamere completamente diverse Ma l'entry level È proprio quello il suo scopo Cioè quello di Facilitare un acquisto Spendendo poco Con caratteristiche Tutto sommato Nobili Che in qualche modo Ti invoglino poi ovviamente A passare a A qualcosa di un pochino più Evoluto Possiamo dire Poi invece c'è chi Tranquillamente rimane Sulle proprie fotocamere Senza cambiare Non è quello il problema Anche altre due fotocamere Molto interessanti A di là della X-T2 Sono l'X-T20 O la X-T30 Io lascerei comunque stare La serie 1 Quindi l'X-T1 L'X-T10 Che comunque sono Un pochino Vecchiotte Però parliamo di fotocamere La cui fascia Di prezzo Si passa Si parla dai 300 Ai 600 euro Magari anche in kit Il kit che normalmente Viene dato con queste fotocamere È il 15-45 Adesso con i numeri Sapete che Faccio un po' confusione Con i numeri È un kit base Anche lì È inutile che dica Di andare a comprare Chissà quale ottiche luminose Fantastiche Meravigliose Conviene comunque Prima imparare A utilizzare la fotocamera E poi eventualmente Passare le ottiche Se si sceglie magari Una fotocamera Un pochino più Grintosa Come un X-T2 E se non ricordo male Anche l'X-T20 L'X-T30 Potresti già avere in mano Un buon kit Cioè il 18-55 Che Non finirò mai di ripeterlo Non è il 18-55 Millimetri Di Canon o Nikon Questo è un 18-55 Che è Un vero e proprio Gioiello È un È un'ottica Veramente fantastica E poi Insomma Nel momento in cui Il tutto sarà Si sarà evoluto Quindi si sarà Entrati a pieno Nella Nella fotografia digitale Beh lì si potrà Scegliere Quali ottiche acquistare Quali Quali fotocamere Anche cambiare E magari sarà già uscita Anche l'X-T2 Quindi si potranno Valutare le cose Diciamo che La sostanza è che Un minimo Un minimissimo Di trauma Comunque c'è È inutile Negarselo Perché Si passa proprio Dall'analogico A un A un modo Diverso Di fare le cose Come Come fare la macchinetta Come utilizzare La moca Per fare il caffè E improvvisamente Trovarsi Ad utilizzare Una macchina Di quelle Ultra elettroniche Da bar Si impara Semplicemente Ad usarla Poi il caffè Sempre il caffè Ci mancherebbe Bisogna comunque Saperlo scegliere E dosare Bella questa similitudine Però Si impara Si impara Non è Non è assolutamente Bello Ma Farai sicuramente Un'ottima scelta Comunque Qualunque fotocamera Tu vada Tu vada a prendere Perché poi Vabbè Ci ha tutto il tempo Per cambiarla Come il saggio Vi ricordo di iscrivervi Al canale Attivare la campanella Mettere un like Al video Condividere Vi ricordo Anche Di Utilizzare Il primissimo link Che trovate qua sotto In descrizione È proprio il primo Se dovete fare gli acquisti Su Amazon Mi supportate Ci sono altri link Sotto in descrizione Dateci un'occhiata Aprite Ce ne sono tanti Cliccateci sopra Perché Potreste trovare qualcosa Che vi interessa veramente E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti